Lugano e Verona Ecco le formazioni, un cambio soltanto per coach Alessandro Pugliesi fuori Saponara, dentro Togni sulla fascia sinistra per supportare Solzi davanti, invece tanti cambi per Mauro Coppini e per il suo, è la Sverona. E' tutto pronto per partire, via, si parte, prima occasione per l'Ellas Verona, con un calcio di punizione, battuto direttamente dentro e arriva il gol del 1-0 a segnare Mussola e dunque porta in vantaggio l'Ellas Verona. Passano soltanto 4 minuti e arriva anche il gol del raddoppio con il pallone messo dentro e poi un po' di mischia, ci pensa De Paoli a calciare, molto forte il pallone in porta e a segnare il gol del 2-0. Al 32esimo, anzi al 33esimo di gioco del primo tempo arriva il fallo di Bertolazzi che stende l'avversario e dunque sarà calcio di rigore per il Lugano. E così potrebbe riaprire la partita sul punto di battuta al numero 7, Capitano Bizzarri, che calcia col destro, spiazza il portiere e chiuderà anche la prima frazione con il vantaggio del Verona per 2-1. Ripartiti nel secondo tempo con l'Ellas Verona che supera la metà campo, attacca sulla fascia destra e arriva anche il grande tiro da parte di Zanfisi che batte Gnonto e segna il gol che vale il 3-1. Ma non finisce qui, il risultato finale sarà 4-1 per il Verona con il grande pallone recuperato da Sidibe che segna il gol che vale appunto il 4-1 a favore del Verona.